Anche il sindaco di Verona, Flavio Tosi, all'inaugurazione di Campania Positiva. Sindaco, perché questa sua presenza qui al sud? Ma perché questo è un paese che è in una situazione economica drammatica a causa di una politica nazionale che ha sbagliato tanto e fatto poco e niente. E quindi va risollevato tutto assieme, non si fa una parte contro l'altra o con degli scontri ideologici o territoriali. Bisogna mettersi assieme e bisogna rimettersi assieme partendo dai territori. E quindi dai sindaci, dai messitori locali, al di là anche dell'appartenenza politica in senso stretto. Persone di buon senso e di buona volontà, oggi i cittadini scelgono le persone e i programmi. Vanno al di là dei simboli e dell'ideologia. E quindi credo che questo tipo di messaggio arrivi appunto da Campania Positiva, ovvero sia un messaggio positivo di concretezza, di legame al territorio e di dare risposta ai cittadini. I cittadini vogliono una politica vicina. Quindi si può ipotizzare in prospettiva una collaborazione politica e programmatica tra nord, centro e sud? Beh, è indispensabile. È indispensabile perché spesso le cose in Italia non sono state fatte perché sono state delle contraposizioni sciocche, sia a livello diciamo geografico che a livello politico. E quando invece sono alcune cose che servono per il Paese che vanno fatte assolutamente, la riduzione della spesa pubblica, del debito, degli sprechi, la burocrazia, la riforma della giustizia, ci sono alcune cose che vanno fatte, che non sono mai state fatte e spesso non sono state fatte appunto a causa di divisioni poco sensate. Se invece con molta concretezza ci si mette e si dice queste sono le cose che servono, chi ci sta, si fanno assieme, è quello che i cittadini aspettano. È un punto di riferimento nazionale, uno dei sindaci più apprezzati d'Italia, potrebbe sicuramente essere il leader di questo raggruppamento. Ha già in mente un partito, un movimento? Come si potrebbe strutturare questa forza politica? Ma io credo che si debba mettere assieme l'area del centro-destra attraverso le primarie e lo puoi fare proprio con quel metodo, perché se tu pensi di dire faccio un nuovo partito, diciamo l'impostazione tradizionale della partitocrazia attuale, i partiti ormai hanno fallito e hanno sbagliato troppo. Mentre invece se tu dici aggrego una serie di soggetti dove nessuno va a comandare a casa degli altri, con una scelta reale da parte dei cittadini, perché le primarie consentono questo, di scegliere, non lo diciamo noi, sono i cittadini che attraverso le primarie scegliono i leader. Se si fa questo, si riconquista la fiducia dei cittadini, i cittadini tornano a votare e si premia il merito, perché oggi in politica purtroppo il merito spesso non viene premiato. Lei ha indicato un percorso politico che è antitetico a quello della Lega, che ha sempre fatto una questione territoriale, di identità territoriale. Come mai? Ha cambiato idea? No, ma non è che bisogna rinnegare l'identità territoriale, anzi, le identità territoriali ci sono, e giustamente chi è campano, orgogliosamente campano, chi è veneto lo stesso, siciliani e quant'altro. Il punto è non contrapporre scioccamente, cioè dire che una parte del territorio deve fare la guerra all'altro o una parte della politica deve fare la guerra all'altra, perché con questo, con le divisioni insensate, non si va da nessuna parte. Quindi, pur rispettando tutte le singole identità che in Italia sono fortissime, e anzi, tutto sommato, fanno parte, insomma, l'Italia è la patria dei campanili. Però bisogna metterla insieme e lavorare insieme seriamente. Lei non ha partecipato alla corsa per la segreteria nazionale della Lega? Possiamo dire che Tosi è di fatto fuori dalla Lega? No, fuori dalla Lega no. Bisogna mai rinnegare il passato. Io sono in Lega da 23 anni. Però c'erano già tante candidature, ci mancava solo da aggiungere anche la mia. Ma credo che siano due percorsi diversi. Un discorso è la segreteria del Movimento, un discorso sono le primarie per riunificare il centrodestra.